benvenuti a tutti nel salotto dell'opinionista news oggi abbiamo in collegamento con noi un imprenditore di como lui è ereditato una storica azienda del comasco la tipolitografia corti e lui è alberto corti ciao alberto benvenuto grazie anche a te buona giornata buona giornata allora alberto alla guida della tipografia siete tu e tuo fratello la tipografia è stata fondata da vostro padre insieme allo zio quindi da altri due fratelli sì esatto esattamente nel 74 quindi quest'anno sono 47 anni di attività quindi voi siete un po cresciuti nel mondo della tipografia respiravate l'aria di stampa di tutti i giorni eh mio fratello sì io sono arrivato dopo in corsa 24 anni fa quindi diciamo che ho preso un'altra strada ho fatto la scuola berghiera ho lavorato per insomma come in quel settore poi ho lavorato tre anni in un'azienda tessile e poi 24 anni fa maggio come quest'anno sono entrato a far parte della dell'azienda di famiglia oggi la tipografia corti è nell'albo d'onore di como esatto sì esatto siamo stati scelti eh nel 2001 quindi vent'anni fa dopo quattro anni dal mio inserimento come azienda ehm diciamo di qualità del comasco ma soprattutto come azienda artigiana che è importante è molto importante anche perché portate avanti una tradizione non solo di famiglia ma anche del territorio tra l'altro voi siete specializzati in particolare nel forne le forniture per l'azienda tessile e producete i cappellotti esatto i cappellotti che servono per agganciare o comunque per sostenere le referenze dei tessuti che poi vanno nelle sale vendite o vanno nelle esposizioni delle fiere per appunto le aziende tessili converter quando parlo di converter vuol dire che è un'azienda che acquista il tessuto lo stampa e lo vende in pezza finito al cliente che può essere un camiciaio un fornitore di tende un fornitore di tessuti per l'avigliamento alberto ne è qualcuno lì da farci vedere vi faccio vedere alcuni cappellotti che facciamo che sono un'azienda importante qui del comasco che si chiama in prima dove praticamente hanno il gancio fustellato ci sono dei cappellotti che abbiamo fatto per la falconeri quindi per l'azienda che produce cashmere non voglio fare pubblicità ma non sto facendo per altre aziende sempre nel settore del comasco addirittura questa è un'azienda di milano dove facciamo dei cappellotti sia con il gancio diciamo fustellato come tu vedi che mi vedi nella sparenza oppure con il gancio in plastica come hai visto naturalmente a quello facciamo anche delle schede che possono essere le classiche schede a 4 normali o delle schede con la patella porta tessuti anche qui sempre su cartoncino realizzato e richiesto dal cliente naturalmente poi ogni cliente che abbiamo al suo colore alla sua diciamo al suo brand che dobbiamo seguire in tutta la gestione del del colore principale insomma sviluppare dal bigliettino da visita appunto come ti dicevo prima anche alla scheda il cappellotto quindi una sorta di di feeling anche di coloro per l'azienda che sia riconoscitiva anche in mezzo alle altre tutto lì quindi voi siete specializzati anche nella personalizzazione del cappellotto come materiali come tessuti e come scusami come colori come finiture insomma c'è un mondo infinito è un mondo a sé nel senso che ogni cliente che noi abbiamo ha un suo percorso di lavorazione un suo percorso di storia ma soprattutto un suo brand cioè quindi non possiamo fare un cappellotto e darlo tutti i nostri clienti ma dare comunque ad ogni cliente una sua una sua identificazione a parte il logo ma proprio anche di colore di brand appunto personalizzato per la fiera o comunque per l'esposizione che poi andrà a fare e poi alberto ovviamente voi accanto al mondo dei cappellotti avete un'ampia gamma di prodotti che personalizzate a seconda delle realtà aziendali quindi dal catalogo al biglietto da visita raccontaci un po che molto interessante oltre al cappellotto la scheda ebook personalizzati a questi tutti i lavori che noi facciamo ci sono una serie di prodotti che la tipografia può offrire e sono svariati e sono molti partendo dal bigliettino da visita per dirti che è la cosa principale dalla penna personalizzata al blocco manager quindi al blocco di presentazione un'azienda alla cartellina stessa alla busta per dirti porta cravate sempre nel mondo tessile che abbiamo fatto per la champions league l'anno scorso insomma ci sono veramente tanti tanti prodotti e tante qualità che noi possiamo offrire al cliente adesso stiamo preparando per un'azienda nuova dei cartoncini anzi dei biglietti da visita con una personalizzazione in oro che è molto particolare è stata comunque molto apprezzata ieri abbiamo fatto dei campioni e hanno avuto un bel successo quindi la nostra attività c'è da 47 anni perché ci siamo dal 74 come tu sai e siamo nati appunto con mio papà e mio zio e adesso siamo io e mio fratello che portiamo avanti questa realtà in un momento anche un po difficile perché le aziende sono per il covid insomma sono state tutte un po colpite però cerchiamo di tenere duro di andare avanti e pensando che ci sarà una risalita un po per tutti quindi non bisogna mollare ma avere la forza di continuare ad avere la grinta di esserci e di starci sul pezzo beh alberto io penso che questa sia una caratteristica che contraddistingue la vostra azienda perché nel corso del tempo si è adattata a quelli che erano i diversi cambiamenti imposti anche dal settore riuscendo ad essere sempre sulla cresta dell'onda diciamolo che la vostra tipografia viene scelta da numerosi brand del made in italy proprio perché offrite un servizio di qualità tradizionale ma anche al contempo innovativo sì esatto quindi l'innovazione nel tempo comunque c'è stata perché noi siamo nati come una tipografia nel 74 io mi ricordo appunto mio padre quando componeva ancora tutto all'incontrario e a mano che era un lavoro immenso di precisione ma soprattutto di pazienza adesso insomma è un po cambiato tutto il discorso e si fanno dei lavori si incidono le lastre o si stampano direttamente in digitale sui cartoncini quindi è un po cambiata c'è stata un'evoluzione vera e propria anche nella stampa ma questo ormai è come in tutte le cose passando diciamo gli anni e il tempo la tecnologia e le possibilità di lavorazione veramente cambiano tantissimo e sono veramente in cambiamento in continuo cambiamento tra l'altro io ho visto anche dei vostri lavori che non riguardano solo l'aspetto aziendale ma anche i privati e mi riferisco ad esempio ai libretti del matrimonio che si mettono in chiesa che ai tablo mariage personalizzati giusto tutto servizio di matrimonio quindi la partecipazione la busta la stampa di tutto quello che è il discorso matrimonio che va dal libretto del matrimonio della chiesa o del comune ma anche a tutto quello che è il discorso del ristorante che può essere è il menù del tavolo per farti un esempio che può essere il cartoncino della confettata che possono essere i nomi ai tavoli quindi anche lì c'è un ampio raggio di azione cioè che si può fare veramente al tablo mariage dove tanti fanno magari un tablo in pvc o comunque un materiale rigido e tanti altri magari fanno delle cose un po più innovative dove noi andiamo ad applicare tipo mi viene in mente una sposa ha fatto un matrimonio ha fatto il tablo mariage con uno specchio antico io gli ho messo tutti dei cartoncini in mezzo allo specchio che praticamente segnavano i tavoli ma davano anche un impressione un po diversa dal classico tablo tablo mariage quindi le possibilità e le offerte nel mondo nostro sono tante basta percepire inquadrare poi l'esigenza del cliente e noi gli andiamo dietro insomma comunque noi abbiamo una raggio di azione che svaria in tutta italia ho spedito ad esempio dei bigliettini da visita per una per un avvocato di roma settimana scorsa abbiamo fatto una spedizione per udine abbiamo fatto una spedizione per vicenza quindi non siamo solo sul territorio ma siamo conosciuti anche oltre alla lombardia e questo devo dire che è stato un incremento anche di azione di clienti che piano piano io mi sono coccolato e scelto col tempo e sperando insomma che ci sia appunto una ripresa un po per tutti per lavorare un po meglio ecco tutto lì beh non a caso anche il famoso brand falconeri ha scelto voi per la produzione dei suoi cappellotti esatto infatti infatti sì questa è stata l'anno scorso nel periodo del covid è uscita questa azienda che insomma il mese di agosto ci ha dato questo ordine di 10 mila cappellotti è stato un ordine importante perché comunque un cliente nuovo e quindi la cosa particolare che io ho avuto questo contatto per farti capire come poi gira il mondo anche delle referenze vere e proprie tra clienti e tra e tra comunque i nostri conoscenti è un nostro cliente ha fatto il nome nostro a falconere quindi tramite lui siamo riusciti ad entrare con la fortuna di essere stati tra virgolette sponsorizzati da lui però l'importante appunto è oggi soprattutto come penso un domani lavorare in squadra e creare delle sinergie con le persone anche con colleghi di lavoro che magari io non ho possibilità di fare alcune cose le fanno loro o viceversa quindi essere disponibile ma creare reattivo ai tempi che insomma stiamo un po attraversando un po tutti quindi di cambiamento vero e proprio e alberto a proposito di reattività l'hai detto bene prima voi fate delle produzioni anche su larga scala come ad esempio nel caso dei 10.000 cappellotti fino a poi alle produzioni creative artigianali per con pochi pezzi veramente curati nei minimi dettagli ma ciò che vi contraddistingue è innanzitutto la capacità di capire quelle che sono le esigenze del cliente e poi anche la velocità di produzione io l'ho sperimentata l'ordine fatto è arrivato veramente nell'arco di pochissimo tempo con grande soddisfazione ovviamente dell'azienda che ha ricevuto il catalogo beh questo è importante perché comunque alla fine lavorare bene e soprattutto strutturarti in una maniera adeguata oggi è fondamentale diciamo che miracoli non li fa nessuno però comunque si cerca di dare concretezza al lavoro e si cerca di dare dare comunque la massima soddisfazione al cliente quindi la cosa importante per farti capire settimana scorso ho avuto un contatto con un'azienda tessile qui del territorio sono stato gli ho fatto le bozze gli abbiamo parlato un attimo insomma tre giorni dopo è arrivato l'ordine quindi probabilmente capiscono anche la nostra prontezza nel soddisfarli questo secondo me è un valore aggiunto a tutto il lavoro di insomma di tanti anni di esperienza ma soprattutto di stare attenti a curare il cliente che per noi la cosa principale quando io dico coccolare vuol dire che la cura del cliente è proprio il massimo che oggi uno possa offrire oltre naturalmente al prodotto che deve essere di qualità e di produzione comunque come ti dicevo prima è non meccanica ma artigianale quindi noi abbiamo le mani le macchine che lavorano ma c'è tanto lavoro manuale nel nostro settore io parlo alberto qual è il lavoro che ti ha dato più soddisfazione il lavoro che mi ha dato più soddisfazione beh adesso non mi viene in mente non mi viene in mente subito così ce ne sono tanti perché facendo tante cose diverse tutti i giorni le soddisfazioni secondo me sono ci sono tutti i giorni sono sempre molteplici naturalmente il lavoro della falconeri è stata una soddisfazione perché è un marchio che comunque conosciuto quindi è un brand che è arrivato da noi è stata veramente una cosa importante speriamo comunque di continuare a lavorare con loro altre cose importanti che abbiamo fatto delle buste per la champions league come ti dicevo prima abbiamo lavorato per coveri per laura biaggiotti insomma dei lavori che comunque con il tempo abbiamo come posso dirti fatto ma anche tenuto il conto l'importanza del brand che ci è arrivato quindi secondo me essere pronti e mi ripeto ancora oggi ad essere disponibile a tutto nel senso del lavoro sicuramente è un vantaggio più e un valore aggiunto c'è un sogno nel cassetto qualcosa che vorresti fare a livello ovviamente di imprenditore ma io penso che un sogno nel cassetto potrebbe essere ripartire con il lavoro per tutti alla grande che sarebbe la cosa più bella che penso che tutti ci meritiamo in questo momento che abbiamo passato chi più chi meno di crisi e di periodo buio come sappiamo tutti per il covid quindi la cosa che per me adesso importante è superare questo momento poi tutto secondo me arriva da solo con la consapevolezza e con la conoscenza anche di persone e amici e comunque non posso lamentarmi su quel punto di vista perché ne ho veramente tanti come ho tanti clienti quindi non abbandono l'idea su niente diventerà tutto una sorpresa secondo me e alberto tu con la tua azienda sei stato protagonista dello scorso numero del giornale l'opinionista news è stata dedicata la pagina all'eccellenza del mese che è una pagina che viene dedicata ogni mese a una sola azienda che si distingue per importanza per prestigio per riconoscimento sul territorio quindi questa è veramente il segnale che un'azienda del territorio può veramente creare un prodotto di qualità ricordiamo sempre che la vostra azienda è veramente nata e cresciuta in italia e la vostra lavora con i brand italiani e penso che questo sia a merito della lungimiranza vostra che siete a capo di questa azienda non avete fatto delle scelte diverse come magari hanno fatto altre altre realtà ma sì io penso sempre che alla fine il valore aggiunto di ogni persona di ogni attività di ogni lavoro che si fa è sempre la persona che c'è dietro quindi in questo caso prima c'era mio papà e mio zio come ti dicevo adesso ci siamo io mi fratello in prima linea però dietro alla fine c'è sempre anche il lavoro di dipendenti di persone collaboratori quindi è tutto un insieme di cose l'essere pronti a disposizione oggi delle persone diciamo del cliente è un vantaggio è un valore aggiunto diciamo che internet ci ha portato via del lavoro perché sicuramente alcune cose vanno su internet però il rapporto umano e la qualità non la trovi su internet quindi devi andare in un'azienda e capire quello che fanno e cosa fanno quindi questo è il messaggio che io lancio spesso alle persone dicendo che d'accordo tutto c'è tutto esiste però ci sono le persone che hanno un'esperienza in tutti i settori che sto parlando quindi quello che può essere secondo me un valore oggi è proprio questo innovazione ma anche la tradizione cioè non scordiamoci da dove siamo partiti e questa è la grande differenza perché voi rispondete sempre al telefono siete disponibili siete veloci rapidi nel fornire le bozze dei prodotti ma mandarli in stampa subito e poi a farli recapitare ovunque in Italia quindi come un'attività online ma meglio di un'attività che c'è solo online perché dall'altra parte abbiamo un professionista che personalizza il prodotto nei minimi dettagli e questa è la grande differenza sì sì ma penso che sia così per molti brand italiani per molte aziende italiane che dietro lavorano con appunto come dicevo prima con le persone quindi alla fine non c'è solo il computer ma c'è l'anima il cuore e la mente della gente anche rima bene bene allora alberto noi ovviamente ti aspettiamo ancora qui presto nel salotto dell'opinionista news e portaci ancora tante altre belle novità e mi raccomando tenete duro perché siete veramente un amore duro ma dobbiamo tenere duro tutti perché alla fine sono convinto che in questo momento così difficile per tutti di discesa poi ci sarà anche la risalita quindi poi lavoreremo anche di notte per recuperare magari il tempo perso questo me lo auguro e lo auguro a tutti a tutte le persone che sono in ascolto durante poi la registrazione quindi insomma è importante dare un messaggio di come posso dire di speranza ma che sia anche effettivo cioè la speranza sicuramente ci sarà e quindi dobbiamo solo quel giorno aspettare che siamo fuori da tutto questo gran casino che è successo certo e intanto come ci hai detto tu l'altra volta quando ci abbiamo intervistato ringraziare un ringraziamento sincero a tutti quei clienti e tutti quei partners professionali che in questo momento sono accanto alle aziende infatti l'importanza sono sempre i clienti perché un'azienda è fondamentale cliente quindi il rapporto che noi abbiamo aziende che mio papà diciamo ha acquisito quando ha aperto e ce l'abbiamo ancora tuttora quindi dico se ci siamo da tanti anni se comunque abbiamo aziende che fortunatamente ci seguono tanti anni arrivano anche aziende nuove vuol dire che abbiamo una bella nomina diciamo così ecco voglio chiudere con spensieratezza questo momento che ormai spero che si arrivi veramente a una coda perché non se ne può più per tante attività è perché pensa solo a faccio un esempio ai ristoranti le palestre cinema tutta questa gente che chiusa da da un anno è veramente subentra anche un po' ormai anche la disperazione perché dopo un anno insomma cioè se non mangi per un anno non ti arrivano soldi non è così semplice vivere adesso quindi dobbiamo pensare che noi nella stessa posizione di persone che magari hanno avuto un calo di lavoro che c'è stato perché purtroppo è inevitabile ma che comunque siamo andati avanti quindi dobbiamo ritenerci ancora più fortunati di altre persone che invece sono chiusi da un anno assolutamente chiaro grazie grazie alberto torna presto trovarci grazie a te sabrina grazie e noi ringraziamo tutti voi per essere stati qua insieme ci vediamo come sempre da lunedì al giovedì ore 18 in salotto ciao ciao